Allora, nuovamente buongiorno a tutti voi, eccoci all'approfondimento di Onnibus al nostro dibattito sull'attualità politica. Intanto vi ricordiamo che oggi è una giornata molto importante per quanto riguarda la crisi libica con un vertice straordinario a Bruxelles dei capi di governo, insomma bisogna trovare una posizione comune su quanto sta avvenendo appunto in Libia, quindi anche nelle prossime ore conosceremo la posizione dell'Europa che in verità in questi giorni è andata un po' in ordine sparso. Poi c'è una notizia di poco fa, c'è stato un violentissimo terremoto in Giappone, nel nord-est del Giappone, ci sarebbe anche un'allerta tsunami, è stato interrotto il traffico aereo all'aeroporto di Tokyo, si parla di decine di feriti, le notizie ovviamente stanno arrivando in queste ore e ve le daremo anche nel corso del nostro dibattito. Torniamo in Italia e ci torniamo con il tema dominante qual è? E' il via libera dato ieri dal governo, dal Consiglio dei Ministri alla riforma costituzionale della giustizia. Vogliamo mostrarvi a beneficio ovviamente di tutti voi ma anche dei nostri ospiti in una rapidissima carrellata solo alcuni titoli per avere un po' come dire il termometro di quello che oggi scrivono i giornali. Intanto la Repubblica, giustizia, la rivolta dei magistrati, la stampa, giustizia, riforma tra le proteste, il giornale finisce l'era degli intoccabili, carriere separate per giudici e PM e da ora le toghe che sbagliano pagheranno ma i magistrati minacciano ritorsioni. Poi la domanda che si pone nel giornale dei finiani, il secolo d'Italia, la giustizia ad personam è finita o no? E infine il titolo del giornale dei Vescovi, avvenire, i Vescovi che non sono stati mai particolarmente teneri con questo governo e con alcune iniziative del centrodestra, ecco il titolo di oggi, giustizia, sfida seria, Berlusconi e Alfano, la riforma non riguarderà i processi già in corso, l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha già parlato di una legge punitiva, il Partito Democratico e l'Italia dei Valori hanno annunciato opposizione dura, mentre il nuovo polo, insomma il terzo polo, si è detto pronto a discutere. Allora noi diamo subito il buongiorno all'onorevole Alfredo Mantovano che è sottosegretario all'interno, buongiorno esponente del PDL, io le chiedo ovviamente un commento su tutto questo, partirei però da questa domanda, l'ambizione rispetto a questa riforma presentata è anche quella di chiudere una volta per tutte il conflitto tra politica e giustizia? L'ambizione è anzitutto quella di dare seguito a impegni precisi assunti con gli elettori al momento del voto, nella primavera del 2008 il centrodestra, quindi non soltanto il PDL ma la Lega e gli altri partiti della coalizione, come accade per tutti gli schieramenti, si sono presentati con un programma e in questo programma c'erano esattamente i punti chiave della riforma, per una serie di ragioni finora non è stato possibile metterli nero su bianco come si dice, emergenza crisi, tante altre vicende, ma adesso è venuto il momento e con un lavoro intenso e serrato del Parlamento ci sono anche i tempi fino alla fine della legislatura per varare perlomeno la riforma costituzionale e per dare l'avvio alle leggi ordinarie di attuazione. Dopodiché io sono colpito favorevolmente dal titolo di Avvenire perché Avvenire è un giornale solitamente equilibrato e che in genere dà peso alle notizie vere spesso apre con quello che accade in Sudan o in luoghi dove i problemi sono reali e non fa chiacchiere e parlare di una sfida seria e in qualche modo riconoscere che sul tappeto non ci sono le vicende personali del Premier ma ci sono dei nodi dei quali prima ancora della politica il mondo forense quindi non soltanto i magistrati ma gli avvocati, i docenti universitari parlano da decenni che per esempio sia necessario definire in modo chiaro il rapporto tra giudice e pubblico ministero e una questione che è stata aperta nel 1989 dal nuovo codice di procedura penale poi uno può anche dire a me non piace quel codice ed è una posizione di principio rispettabilissima a cui derivano delle conseguenze ma se da 22 anni esiste quel codice è monco l'ordinamento che non ne trae le conseguenze fino a definire meglio la questione del pubblico ministero sulla vicenda del giudizio disciplinare dei magistrati beh io qui interpello veramente la sinistra anzitutto ma tutte le forze di opposizione perché è un punto che fino a quando la riforma non è stata annunciata e approvata in consiglio dei ministri era assolutamente incontroverso perché sfida chiunque a trovare soddisfacente l'attuale sistema di giudizio disciplinare dei magistrati sulle difficoltà nel rapporto tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero e quindi sulla necessità non di sconvolgere il sistema ma di apportare delle rettifiche che rendano più equilibrato questo rapporto e soprattutto diano dei risultati in termini di maggiore efficienza operativa anche su questo non è un problema di steccati di schieramenti ideologici è un problema di guardare le carte e di scendere il concreto dopodiché siamo all'inizio il governo non ha fatto un decreto legge sarebbe stato impossibile giudicamente ha fatto una proposta questa proposta verrà tra qualche giorno consegnata al Parlamento e si inizierà a discutere. Allora grazie al sottosegretario Mantovano che lo ricordiamo è stato anche un magistrato e noi andiamo per così dire a sentire l'opinione di un altro magistrato ma di un altro esponente politico che è l'onorevole Donatella Ferranti che mi pare sia capogruppo in commissione giustizia capogruppo del Partito Democratico in commissione giustizia alla Camera magistrato anche lei questo lo dico insomma a beneficio dei telespettatori che evidentemente non conoscessero fino in fondo il curriculum non solo politico diciamo dei nostri ospiti. Voi mi pare lei ha definito l'iniziativa del governo una controriforma insomma e l'avete già bocciata in toto? Ah sì ci sono varie ci sono vari aspetti da considerare io credo. Da un lato va valorizzato il fatto che in questa riforma cosiddetta riforma non c'è un aspetto un aspetto che riguarderà il vero problema della giustizia i veri problemi della giustizia da qui i cittadini non avranno nessun beneficio riguardante proprio quello che è il male della giustizia i mali della lentezza dell'efficienza anche dell'accesso alla giustizia. Poi io credo che ci sia da valutare molto anche come è stata presentata in quale contesto è presentata questa pretesa riforma costituzionale e che non ci sia questa finalità così serena di riequilibrio di sistema. Io credo che anche se il Ministro Alfano ha voluto un po' edulcorare e dire che si tratta di un mero progetto che poi può essere rivisto. In realtà ieri le parole del Presidente del Consiglio quando ha presentato questa riforma in conferenza stampa io credo che siano determinanti perché dice con questa riforma, con questa linea di riforma in pratica non ci sarebbe stato il Tangentopoli, non ci sarebbe stato quello che è stato un momento anche importante per la vita della democrazia italiana e dove anche il ruolo della magistratura ci sono stati sicuramente di momenti diciamo dolorosi ma che comunque la finalità e poi si vede per come è stata e così linea tracciata questa linea di riforma la finalità è proprio quella punitiva nei confronti della magistratura ordinaria soprattutto della magistratura requirente e soprattutto volta a controllare il pubblico ministero, a controllare l'esercizio dell'azione penale e diciamo a parte il contentino dei due CSM che sono presieduti dal capo dello Stato, in realtà se lei mi consente adesso o dopo di indicare quali sono i momenti critici perché davanti al Partito Democratico non c'è un no in assoluto perché si tratta della riforma presentata dalla maggioranza ma perché appunto ci sono, si sovvertono i principi del nostro Stato democratico, in particolare quello appunto che è basato sulla distinzione dei poteri, sul fatto che l'autonomia e indipendenza della magistratura e quindi anche del pubblico ministero ma la vera autonomia e indipendenza dal potere diciamo politico è poi garanzia dei cittadini, è garanzia dell'uguaglianza dei cittadini, è garanzia appunto che si attua anche tramite l'obbligatorietà dell'azione penale. E allora che cosa succede in questa riforma? Che ha dei momenti diciamo in questo progetto, in questa linea che tra l'altro in maniera diciamo demagogica come è abituato a fare questo governo, viene presentata in un momento particolare, viene quasi... Ma lei dice quando dice mi scusi, quando dice viene presentata in un modello particolare si riferisce per esempio ai quattro processi che riguardano il premier in questa primavera giudiziaria che lo investe, questo è anche il momento che si riferisce. Certo, ma sicuramente è un momento, voglio dire, io guardi io credo che una cosa sia importante, Berlusconi ha delle, diciamo, il presidente Berlusconi ha comunque un modo anche di esprimersi che poi rappresenta quale sono le vere finalità dei progetti di riforma. Ovviamente il ministro Alfano ha cercato di attutirli perché diciamo non è nel momento in cui questa riforma viene presentata come il momento di controllo o comunque il momento in cui alcuni fatti che sono stati operati dalla magistratura nella lotta alla comunità organizzata che non è soltanto quella che uccide nei processi di mafia ma è anche quella che si avvale della corruzione, della concussione, che si avvale di altri, diciamo di una diffusione occulta nei poteri. In questo momento, in questo momento, mettere, far sì che il consiglio superiore della magistratura diventi un mero organo di amministrazione, quindi non più, non potrà più dare pareri nei confronti delle proposte di legge governative e nemmeno a richiesta. Nel momento in cui... Si occuperà solo di promozioni, credo, no? Sì, soltanto un'amministrazione, bassa amministrazione, chiamiamola burocrazia, si costituiscono addirittura due CSM per realizzare i trasferimenti e le promozioni dei magistrati. Insomma, non è esattamente così. Ma è così. Magari non entriamo subito nel dettaglio, tanto abbiamo tempo, così sentiamo, facciamo un primo giro. Si incide soprattutto il discorso dell'obbligatorietà dell'azione penale, cioè sarà il Parlamento, la legge, che fisserà i criteri di priorità delle azioni penali, quindi dei reati da perseguire. E quindi quello è un principio cardine che sta alla base anche dell'uguaglianza dei cittadini. E quindi si fa sì che poi il Ministro, il Ministro, alle Camere, che adesso, anziché riferire soltanto dello Stato della Giustizia, riferirà su come è stata esercitata l'azione penale, come sono state effettuate le indagini. Questi, diciamo, sono i punti più critici che, insomma, non le piacciono, mi pare di capire. Beh, è una questione di piacere, è una questione veramente di preoccupazione. C'è una cosa di questa riforma presentata che lei condivide? Ma, devo dire che, diciamo, è un'impostazione che scardina dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Vede, per esempio, quella sulla responsabilità civile dei magistrati, è un altro argomento molto importante. Non c'era bisogno di fare queste, diciamo, questa affermazione così eclatante del testo costituzionale, perché c'è una legge ordinaria che è stata, che è in vigore. Va modificata, va migliorata, anche alla luce di una sperimentazione non positiva, infatti l'abbiamo già in Parlamento incardinata alla Camera e la stiamo valutando. Quindi, voglio dire, ci sono degli aspetti da migliorare, sicuramente, anche per quello che riguarda, diciamo, la sezione disciplinare. Se noi stessi abbiamo presentato delle proposte riguardanti, appunto, una sezione autonoma... Sì, ma anche Bersani ieri ha detto, mi pare, abbiamo quattro provvedimenti, se le vogliamo discutere la maggioranza lo faremo. Una nuova legge elettorale per il CSM, ma non delle situazioni che minano proprio i principi in radici. Volevo sentire, diciamo, in questo percorso di prime riflessioni, l'opinione dell'onorevole Roberto Rao dell'Udc, perché, diciamo, è l'altra parte dell'opposizione che, diciamo, mi è sembrata invece più possibilista, no? Abbiamo fatto una riunione ieri in mattinata anche con gli altri colleghi degli altri partiti del Nuovo Polo e abbiamo deciso comunque di sederci a questo tavolo per vedere che cosa, come verrà squadernata questa proposta di riforma costituzionale, anche perché, al di là degli annunci di ieri, e qui poi tornerò un secondo, mi sembra che ci saranno dieci leggi che accompagneranno questa riforma costituzionale, quindi prima di esprimerci compiutamente dovremo vedere quali sono queste dieci leggi, è meglio... Diciamo, il percorso è molto complesso, molto lungo. E' meglio sedersi al tavolo per valutare il contenuto piuttosto che dire a priori di no. Ma il peggior spot, come accennava prima la Ferranti, di questa riforma non l'ha fatto il Ministro Alfano che ha cercato di vestirla nel miglior modo possibile in maniera propositiva. L'ha fatta purtroppo proprio il Premier, perché tradendo quello che è il suo pensiero, ha detto sostanzialmente che se con questa riforma in atto, con i risultati di questa riforma in atto, non ci sarebbe stata Tangentopoli, forse almeno avrebbe dovuto dire che non ci sarebbero stati gli eccessi di Tangentopoli, perché dire che non ci sarebbe stata Tangentopoli fa subito venire alla mente che lasciando al Parlamento la possibilità di intervenire sull'obbligatorietà dell'azione penale, perché chiaramente ci riferiamo a questo, pensiamo agli anni di Tangentopoli, qui ce n'è stato un testimone che è uscito ovviamente immune, ma poi successivamente Clemente ha avuto diversi altri attenzioni da parte della magistratura, ma quello poi in caso ci torneremo, avrebbe fatto il Parlamento che cosa? Un paio di leggi in cui si diceva che la corruzione e la concussione per esempio non dovessero essere tra le priorità dei magistrati, questa è la paura, allora che cosa sarebbe successo? Questo sarebbe arrivato in fondo e sostanzialmente sarebbe stata la casta che si sarebbe autoassolta. Scusa, l'interrompo perché stanno andando le immagini del terremoto, di questo spaventoso violentissimo terremoto in Giappone, queste sono le prime immagini, io adesso avendo il video un po' distante non distingo bene, però insomma sono le prime immagini che vengono trasmesse sui circuiti internazionali di questo terremoto, lo dicevamo prima, ci sono notizie di decine di feriti, poi insomma altri aggiornamenti in questo momento non ce ne sono, è stato chiuso all'aeroporto di Tokyo, insomma vedremo nel corso, nel prosieguo anche di questa mattinata, mi scusi prego. No prego, confidiamo nella capacità anche del Giappone di aver come essendo uno stato particolarmente soggetto a questi terremoti, abbiamo visto, vedevamo prima con i colleghi commentavamo che continuavano addirittura a lavorare mentre c'erano nei grattacieli queste grandissime scosse. Sì, rispetto ad altri paesi che sono più attrezzati, qui c'è l'allarme tsunami, quindi si fa vedere ovviamente la costa, ecco vedete questa grande ondata, insomma vediamo come si evolverà, ve lo diamo diciamo in tempo reale, vediamo gli aggiornamenti, prego. E quindi questo è stato secondo me uno spot molto negativo, per esempio secondo noi ci sono altre urgenze, allora che cosa abbiamo detto ieri in questa riunione? Che noi ci sederemo a questo tavolo comunque perché vogliamo approfondire i contenuti, ma a patto che questo tavolo sia sparecchiato, sia sparecchiato da tutte le norme ad personam, cioè quelle che riguardano i processi di Berlusconi e che attualmente giacciono come una pistola carica sul tavolo a minaccia di tutti gli altri provvedimenti che vanno avanti, che ci possono dire in qualsiasi momento fermiamo, diamo la precedenza a questi, non è vero che alcuni sono stati già calendarizzati, parliamo della prescrizione breve, parliamo delle intercettazioni, parliamo di tutto quello che... C'erano dei provvedimenti all'Atre che non riguardano questa riforma, ovviamente. Assolutamente, sono dei provvedimenti ordinari, che potrebbero invece avere una corsia preferenziale, se vengono sparecchiati noi siamo pronti a sederci al tavolo e una volta sparecchiati di questi provvedimenti, mentre c'è il percorso lungo di due anni di riforme costituzionali, noi abbiamo questa garanzia, nel momento in cui vengono ritirati fuori noi abbandoniamo il tavolo, questo sarà il nostro primo atto, ma se restano fuori noi siamo pronti, disponibili, come è avvenuto, lo sa bene il sottosegretario Mantovano, lo sanno i colleghi della Commissione, su tanti altri provvedimenti, dallo stalking, alla violenza sessuale, a norme antimafia, siamo pronti a votare tutti quei provvedimenti che vanno realmente nell'interesse dei cittadini e che sono più urgenti, sono stati approvati quelli all'unanimità, noi siamo pronti, dall'arretrato del processo civile, alla reale informatizzazione, al nuovo ordinamento per la magistratura onoraria, qui accanto ai vostri studi c'è l'ufficio del giudice di pace, chi è che non ha avuto almeno una volta nelle nostre famiglie, non si è andato al giudice di pace almeno per una multa, vediamo che quello è un sistema efficiente che produce sentenze, che abbrevia i tempi, perché, e quindi interveniamo su quello, perché per quanto riguarda questa riforma, anche qualora andasse in porto, direi che i cittadini forse la percepiranno molto poco. Mi sembra chiaro il suo parere, intanto rispetto alle immagini che anche stiamo vedendo, posso dirvi che c'è stato un primo potente tsunami di 7 metri e mezzo registrato a Soma nella prefettura di Fukushima e poi ancora il Giappone ha inviato le sue forze navali nelle zone interessate dal sisma a magnitudo 8,8, pensate, ha colpito il nord-est del Giappone, ecco possiamo anche, le immagini sono più che eloquenti, insomma vedete io vedo una parte di costa, ovviamente non ci sono in questo momento, non si vedono né abitazioni né altro, però diciamo è impressionante questo muro di acqua che si sta abbattendo, in questo caso su questa parte di costa nel nord-est del Giappone, un terremoto dicevamo violentissimo, magnitudo anzi 8,9, ecco continuano gli aggiornamenti, ha colpito la costa del Pacifico, ha inondato l'immenso parcheggio del centro giochi di Disneyland, situato nella regione di Tokyo, ecco queste sono altre notizie che arrivano, insomma ve ne diamo conto durante il nostro dibattito, possiamo anche togliere queste immagini e tornare in studio, chiedo gentilmente alla regia, poi ci ricolleghiamo con gli aggiornamenti, allora grazie. Abbiamo sentito allora Roberto Rau, io saluto e do il buongiorno all'onorevole Clemente Mastella, europarlamentare, Udeur Popolari per il Sud, è la sua sigla, peraltro lei si candida come sindaco di Napoli, adesso alle prossime amministrative, ricordiamolo ancora per chi non lo ricordasse che l'onorevole Mastella è stato ministro della giustizia e peraltro è stato protagonista diciamo della giustizia in quel senso, ma anche è al centro di un'inchiesta, no mi pare giudiziaria? Sì, un po' strano visto gli atteggiamenti che vedo un po' disparati, soprattutto negli ultimi tempi, però comunque voglio dire, personalmente sono andato a fare anche deposizione spontanea su ad esempio tra le cose più stravaganti che mi sono successe è quello di essere accusato di tentata confusione per un primario, però ho fatto pressione per un primario che io non conosco, ma la cosa stravagante è che questo già era primario, quindi per dire insomma qual è la richiesta di rimia giudizio, scusi mandiamo la pubblicità, la faccio riprendere subito dopo, grazie. Allora, l'onorevole Mastella che ci stava un attimo raccontando la sua vicenda giudiziaria poi ovviamente però vogliamo sapere il suo parere. In questo momento non è al centro dell'attenzione, non frega nulla a nessuno se non a me, con qualche pena di riporto, con qualche amarezza di troppo. Ma ci sarà il processo? Mi scusi, facciamo... Siamo al processo, io sono andato a fare deposizione spontanea, quindi ci sarà, se sono rinviato a giudizio ci sarà, con cose che sono... Di chi è accusato? Di associazione a delinquere? No, perché io avrei costituito il mio partito nel 1998... L'Udeo? Con L'Udeo come associazione per delinquere, quindi una cosa singolare, cioè io ho riunito tutti a Cepaloni dicendo venite qua, facciamo la associazione per delinquere, è un po' singolare però comunque è così, non meno, come dire, remore più di tanto rispetto a quello che si è verificato, può darsi sia buona fede, non so se è buona fede, in parte sì, in parte no, comunque... Stavicendo però fece cadere anche il governo di cui lei era ministro della giustizia? Insomma, cadere per una serie di ragioni, tra cui anche probabilmente questa. Comunque nel, diciamo, per dare la mia opinione, evidentemente oggi io ho una forma abbastanza distaccata rispetto a queste questioni, che però hanno un loro rilievo evidentemente. La mia opinione è solito sui tempi, cioè essendo uno che ha fatto per 30 anni il parlamentare ritengo che i tempi non ci siano, questa è la mia opinione, quindi noi stiamo facendo una grande battage su questa vicenda, però in realtà per la doppia lettura che c'è, per il fatto di avere un referendum confermativo successivamente, credo che oggettivamente i tempi non ci siano. Entro la fine della legislatura non ce la si farà? Ma non credo che si ci faccia, perché bisogna dedicare soltanto a questo, non pensare alla Libia, non pensare ad altre vicende, ad altre situazioni, quindi francamente diventa abbastanza complicato. Questo si potrebbe fare soltanto ad una condizione, cioè che ci fosse, che so l'atteggiamento, come ha dichiarato, di grande responsabilità da parte, nel confronto da parte degli amici del Terzo Polo e fosse anche da parte del PD per dire valutiamo e laddove in questa valutazione ci fossero elementi di concordanza magari c'è una forma di accelerazione. Però mi pare che il clima non abbia questa caratteristica molto serena e quindi come vede il clima cambia in Giappone per il tsunami, cambia anche da queste parti che qualche tsunami insomma si è già verificato. E' ovvio che mancando questo, e poi manca un'altra cosa, cioè vede io potrei avere qualche resistenza di troppo e magari forviante rispetto ai magistrati, però oggettivamente come uno tratti in termini di concertazione con i sindacati dal punto di vista del mondo del lavoro, credo che sia la stessa cosa giusto farle con l'ANM, cosa io ho provato a fare, dopo dire ci sono persone di grande responsabilità e ci sono anche quelli che invece hanno valutazioni un po' più ideologiche, sono diciamo più oggettivamente recalcitranti rispetto ad ogni forma magari di cambiamento, perché mi pare ovvio che una qualche riforma nell'accelerazione di determinare una centralità del cittadino con la brevità dei processi, tutto sul piano civile, ma non soltanto sul piano civile ma anche su quello penale, una riforma organizzativa come io ho tentato di fare, l'ordinamento sul piano... Sì, sì, ma una riforma, voglio che fosse una riforma che toccassi i gangli vitali del modo di esistere e di rapporto tra il cittadino e l'istituzione giudiziaria, questo mi sembra la cosa più importante. Poi c'è un altro elemento... In quel caso ha trovato un muro da parte dei magistrati, mi scusi, in quel caso... No, devo dire questo no, c'erano alcune resistenze, però evidentemente là il dato e la responsabilità della politica sono andate avanti, però in maniera concettativa, cioè dialogando... Assumiamo anche le nostre responsabilità sul piano politico, questo mi pare evidente, perché rivendio dalla politica un primato in cui si discute e dopodiché si decide, però guai in maniera preliminare a dar l'idea di fare una cosa contro. Mi scusi, non è una stella, ci sono delle altre immagini spaventose che arrivano dal Giappone, questo è un rogo, un incendio, potrebbe essere appunto un insediamento industriale, adesso mi pare di vedere da questi silos che intravedo nelle immagini, insomma la situazione è molto più grave di quanto non si è apparsa all'inizio, si è parlato di poche decine di feriti, adesso si parla appunto della Disneyland alle porte di Tokyo completamente invasa dall'acqua dello tsunami allagata, qui ci sono degli incendi, l'esercito è stato mobilitato nelle zone del nord-est colpite da questo terremoto, quasi 9 gradi sulla scala Richter da 10 anni, non si verificava una scossa di questa violenza, di questa intensità in Giappone. Ecco possiamo intanto togliere le immagini e torniamo a Mastella, scusateci. Sì, meno rilevante purtroppo per il dramma che vivono da quelle parti, quindi dicevo c'è questo dato innanzitutto, poi qual è la mia opinione avendolo vissuto anche in maniera personale, giusto o sbagliato che sia, io ho fatto un ordinamento e ho operato anche dei correttivi rispetto alla riforma Castelli, ora con molta oggettività e lo dico in questo caso anche dal mio punto di vista, avendo operato diciamo in difformità, però io credo che una grande riforma, se si vuole davvero realizzare una riforma epocale, si fa quando sono riforme costituzionali, si fa d'intesa maggioranza e opposizione, altrimenti qual è il rischio? Mettiamo per ipotesi che il corso degli eventi parlamentari arrivi a disciplinare che sul piano dell'esito finale c'è la riforma, dopodiché arriva un nuovo governo, cambierà le cose, ora il povero cittadino rimane, come dire, frastornato, allora già siamo frastornati rispetto a quello che c'è, questo non significa, va di bene, che non bisogna riformare, perché poi l'idea è quello di una forma di conservazione, di lasciare quello che c'è, quello che c'è francamente non è il migliore dei mondi possibile, però tra il lasciare inalterata la situazione e arrivare con uno tsunami dall'altro lato, francamente ci può essere una via mediana, io spero che il dato del confronto che si apra e se una riforma, diciamo, aperta, aperta alla logica degli apporti dell'ANM, aperta alla logica delle forze brutto parlamentari, si possa arrivare perlomeno un qualche... Ma stando alle prime reazioni, soprattutto del PD e dei magistrati, lei questo dialogo lo vede possibile? No, no, francamente no, francamente no, però dipenderà anche dalla posizione del terzo polo, devo dire la verità, se il terzo polo converrà su alcuni elementi potrà attracinare anche gli altri, c'è la discussione, però bisogna vedere dove si rifrange, quali sono gli aspetti, diciamo, di una valutazione comparata che possono determinare una forma di concordanza, perché è ovvio che, cioè, una riforma non parte mai con l'idea del carattere punitivo, e lo dice uno che è, come dire, scottato, cioè avendo messo mano, probabilmente dall'ordinamento sono stato fregato per aver messo mano all'ordinamento, quindi lo dico con molta intensità, anche un po' emotiva, però detto questo non ho, come dire, rancori che serbo dietro, perché? Perché chiunque fa politica deve avere l'interesse rispetto al cittadino, e il cittadino non mi pare che abbia, anche in questa visione che vedo, la centralità come tale, il che non significa rimodernare l'apparato istituzionale. Però mi scusi, quando il Premier mostra il disegno e dice riequilibriamo accusa e difesa, qualche cosa significherà quello o no? No, questo bisogna riequilibrare, bisogna riequilibrare, mi pare abbastanza evidente l'accusa e la difesa, cioè, questo, mettere mano ad alcuni aspetti, questo mi pare abbastanza evidente, sia chiaro, io non dico che non bisogna fare nulla, assolutamente no, c'è, però, credo, insomma, modus irrebus a questo punto di vista, ripeto, perché altrimenti diventa un grande annuncio e non c'è cosa peggiore, quello della delusione finale, perché qua il rischio è la delusione finale, cioè, oramai sono tantissimi anni che ci proviamo tutti a fare qualcosa. Il Premier era dal 94 che aspettavo questa riforma. Allora, buongiorno a Peter Gomez, collegato con noi da Milano, del Fatto Quotidiano. Senta Gomez, non ci sono, diciamo, norme ad personam, non riguarda questo provvedimento costituzionale, processi in corso, cosa le piace e cosa non le piace? Beh, prima di tutto, io credo che alla nostra classe dirigente richiediamo serietà e quanto poca serietà l'abbiamo capito dagli interventi di questa mattina. Mi spiego, ieri mi ha molto colpito, credo che abbia colpito tutti gli italiani l'immagine di Berlusconi che presenta questa bilancia, a suo dire oggi sbilanciata, della giustizia e come sarà domani. Contemporaneamente vediamo che ha un grosso cerotto sul viso. Noi ieri, come il Fatto Quotidiano punto it abbiamo sentito il suo dentista, il quale è l'uomo dell'intervento maxilofacciale e ci ha detto che sotto quel cerotto non c'è niente e quel cerotto è stato messo semplicemente da lui consigliato per sostenere, dice, i punti interni. Abbiamo chiesto ad altri esperti e ci hanno detto che il cerotto non serve a niente. Perché lo dico? Lo dico non solo perché è una notizia. Perché stamattina abbiamo preso, abbiamo saputo e abbiamo avuto confermato che al 99% non ci sono i tempi per farla questa riforma. È una riforma costituzionale, ci può piacere o non piacere. È una riforma costituzionale che richiede altre dieci leggi. Eppure la giustizia ha bisogno di interventi immediati perché siamo tutti d'accordo che la giustizia non funziona. E allora è più per questo pretendo serietà dalle mie classi dirigenti. Ci sono tutta una serie di interventi immediati che si possono fare per invia di legge ordinaria per rendere più efficiente la macchina. Se una macchina non funziona si interviene sulle cose che si possono fare subito e adesso. Non sulle cose che forse avverranno fra due anni dopo un referendum confermativo. Perché cosa c'è che non funziona in questa riforma? Prima della separazione del carriere e di tutte le cose che avete parlato. C'è un punto che i cittadini devono capire. È già stato sottolineato. Berlusconi ha detto che se fosse stata in atto questa riforma non ci sarebbe stata mani pulite, che è una cosa diversa da Tangentopoli. Cioè l'inchiesta sulla corruzione. Noi sappiamo che il nostro Paese ha un grosso problema legato alla corruzione. Sappiamo anche che questo governo, il primo marzo dell'anno scorso, promise una forte legge anticorruzione. Io chiedo all'onorevole Mantovano, che poi sicuramente mi risponderà perché lui sì che è persona seria, perché all'interno di questa maggioranza e di questo governo ci sono un sacco di persone serie, che fine ha fatto quella legge. Come mi chiedo anche della riforma costituzionale che è stata proposta solo un mese fa in materia di lavoro. Allora arriviamo al punto. Cosa non funziona secondo me, ma questo è un mio parere, rispetto a questa riforma costituzionale? È stato detto prima. Si demanda in qualche modo al Parlamento la possibilità di indirizzare e scegliere su quali reati bisogna indagare. Formalmente l'azione penale rimane obbligatoria. Nei fatti si demanda una legge ordinaria per cui sarà il Parlamento che dovrà decidere quale priorità. Io non penso che un Parlamento con un Paese in cui la nostra classe dirigente ha problemi legati a reati della pubblica amministrazione come i nostri, si possa pensare seriamente che si occuperà di quel tipo di cose. L'abbiamo visto. È paradossale che qualsiasi tipo di richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari, siano essi di destra o di sinistra, con maggioranze diverse, autorizzazione a procedere, intendo, all'utilizzo di intercettazione, tutte le cose che devono essere votate in Parlamento venga regolarmente despinta. Non possiamo pensare che tutti i magistrati d'Italia, in qualsiasi inchiesta, siano responsabili di fumus persecuzionis, che ci sia sempre questo intento. Mantovano, non è così, lo sappiamo, intervengono delle altre logiche. Cosa c'è poi che non mi piace? Si può discutere separazione del carriere, quello che volete, si può anche discutere di CSM separati, si può fare tutto, ma perché all'interno di questi organismi bisogna mettere il 50% di politici? Diciamo, io sono il primo a dirlo, il problema della magistratura è la divisione in correnti, questo è un grosso problema, pensiamo di risolvere tutto questo buttandoci dentro un'altra caterva di politici. Io credo che un paese dove la corruzione costa 60 miliardi all'anno ai cittadini dovrebbe occuparsi di altre cose. Ultima nota che offro come nota polemica, io do un'interpretazione a tutto questo. Berlusconi sa benissimo che questa riforma non passerà, che impegnerà un sacco di tempo a una riforma costituzionale. Perché la fa? Vuole scaldare il clima, vuole far sì di potersi presentare ai suoi processi, al processo rubi per prostituzione e concussione in particolare e poter dire vedete io ho contro l'intera magistratura e nel caso mi condannassero è una ritorsione nei miei confronti. Allora per favore questo paese ha tanti problemi, cerchiamo di occuparceli seriamente. Io come osservatore qualche leggina, qualche norma che immediatamente si potrebbe fare per rendere efficiente la macchina della giustizia ce l'ho in mente, magari dopo ne discutiamo, in Parlamento si riuniscono non su mia proposta ma su proposta voglio dire di qualcun altro e magari le approvano. Non mettiamoci a discutere per due anni di una cosa che non passerà mai. Grazie Gomez, intanto l'onorevole Mantovano visto prendeva appunti perché così concludiamo il giro prima di farla replicare. Volevo chiederle un'altra cosa Gomez, mi scusi, rispetto proprio alla sua ultima considerazione. Cerco di semplificare, Berlusconi farà campagna elettorale nelle aule dei tribunali e penso alle amministrative prossime? Cercherà di farla perché è l'unica cosa che può fare, certamente cercherà di farla, ma questo va benissimo, che Berlusconi vada in aula, che Berlusconi anche tenti di sollevare il conflitto di attribuzioni. Tenti di fare tutte queste cose, è nelle regole del gioco. Io penso che un politico nelle sue condizioni avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni ma questo è un mio pensiero e non pretendo che nessuno lo condivida nemmeno lui. certamente cercherà lo spinning, cercherà di rovesciare in suo favore la situazione. Il fatto è che il Paese ha tanti problemi, io penso che anche questa cosa non se la può permettere. Grazie. Allora, adesso voglio coinvolgere Anna Maria Greco del giornale, che si occupa di cronaca giudiziaria di questi temi. Vorrei dare però un aggiornamento sul Giappone. Intanto c'è la prima vittima ufficiale di questo terremoto, è stata registrata nella prefettura di Ibaraki, a nord di Tokyo. Poi prima vedevamo delle immagini, adesso queste sono in diretta e credo si riferiscono ancora all'allagamento rispetto allo tsunami che c'è stato. Prima vedevamo le immagini invece di un incendio, di un terribile rogo scoppiato in una raffineria, ecco un vasto incendio che è scoppiato nella raffineria di Liciara, non lontana da Tokyo, quindi questo per dar conto appunto delle immagini che vedevamo prima, mentre scorrono altre immagini che documentano appunto le ripercussioni, le conseguenze di questo terremoto, ripetiamo violentissimo, 9 gradi sulla scala Richter. Ecco, possiamo interrompere. Allora, Anna Maria Greco, peraltro lei ieri, proprio ieri, no, nei giorni scorsi, forse non era ieri, sul suo giornale, questo aveva suscitato ovviamente molte polemiche, erano state pubblicate le mail, uno scambio di mail tra magistrati, mi pare, no, di Milano, in cui non si parlava bene, diciamo sintetizzo in maniera un po' tracciante, né del Premier, né degli elettori del centro-destra o no? No, soprattutto era un dibattito appunto fra i magistrati, prima della presentazione appunto della riforma, in cui appariva già chiaro che c'era un'intenzione di opposizione pregiudiziale dalle anticipazioni che si aveva e che si stava preparando una risposta, come hanno definito loro, epocale, ma soprattutto... Cioè, riforma epocale rispondiamo con... Risposte epocali, soprattutto facendo pressioni sull'ANM, sull'Associazione Magistrati, perché imboccasse la strada dell'opposizione più dura. Ripara Armando Spadaro, il magistrato di Milano, lo ripete anche oggi sui giornali, questo. Sì, poi dopo la riforma tanto più... Ma era chiaro che c'era una chiusura di fronte a qualsiasi proposta del governo e soprattutto quello che colpiva era che questi magistrati parlassero come dei politici, cioè appunto si mettessero d'accordo fra di loro su una sorta di mobilitazione, non tanto di protesta effettiva nel merito della riforma, ma di convinzione degli elettori appunto che la riforma era sbagliata, che Berlusconi la voleva solamente per i suoi interessi, abbiamo visto che non è così, e che comunque quindi aveva tutto un sapore politico, cioè come se l'Associazione Magistrati fosse un partito politico o comunque che si volesse da parte della base dei magistrati che sempre più lo diventasse. E questo è forse il punto centrale, cioè il problema della politicizzazione di una gran parte della magistratura purtroppo sempre di più e del CSM che poi amministra l'organizzazione dei magistrati e anche la giustizia disciplinare. Ora dire che tutto questo non sono dei problemi reali mi sembra veramente fuori dal mondo, perché lo vediamo tutti i giorni, che invece sono dei problemi reali. Una riorganizzazione del CSM è un problema che tocca i cittadini, perché dal CSM partono le disposizioni per organizzare gli uffici giudiziari, si garantisce l'efficienza di quegli uffici, la loro produttività, la loro produttività vuol dire che il cittadino avrà o meno una risposta celere in qualche modo, certo con tutte le difficoltà, però è importante che certe scelte vengono fatte per esempio ai vertici degli uffici giudiziari e nell'organizzazione degli uffici appunto in base non a logiche correntizie come purtroppo avviene oggi, è inutile negarlo, ma in base alle capacità dei certi personaggi scelti invece di altri. Quindi dire che questo non influisce su una giustizia reale non mi sembra assolutamente vero. Io poi non ho le certezze del collega Gomez sul perché questa riforma adesso sia stata fatta, però appunto noto che finora si è sempre protestato contro interventi parziali sulla giustizia, interventi tamponi, interventi ad personam. In questo caso è stato addirittura scritto, ma non ce ne sarebbe dovuto essere bisogno nel testo che ci è stato presentato ieri, non ci sono interventi di questa riforma che possono influire su qualche processo in corso, non si vede bene quale interesse questo governo possa avere anche perché come è stato spiegato mi ha colpito che forse non sia stato detto abbastanza, ma se questa riforma andrà in porto, un prossimo governo, visto che fortunatamente in Italia siamo liberi alle prossime elezioni potrebbe cambiare, questo governo non è eterno, si consegnerebbe al prossimo governo magari del centro-sinistra un'arma formidabile di un governo che può avere in mano i pubblici ministeri come è stato detto, per mezzo di una riforma che ne limita l'autonomia e l'indipendenza. Ora tutto penso che voglia fare Berlusconi tranne questo, quindi questa mi sembra già una garanzia. Questa sua riflessione mi fa venire in mente il titolo che ha fatto oggi Italia Oggi, giustizia punte a capo, la riforma è quasi la fotocopia di quella elaborata 14 anni fa da Marco Boato per la commissione bicamerale presieduta da D'Alema. È vero, infatti in questo paese non abbiamo un problema di destra o di sinistra, abbiamo un problema purtroppo, salvo una serie di lodevoli eccezioni, di classi dirigenti e questo è uno dei punti, quindi dovremmo riflettere su questo. La collega Greco ha ragione su molte cose, ma la prima cosa che chiedono i cittadini oggi, lo sappiamo tutti, è velocità e certezza della pena. Questa riforma non incide su velocità e certezza della pena. È possibile però immediatamente operare per legge ordinaria, per avere processi più veloci e pene più certe. Perché non viene fatto? Domanda. Perché si decide di imbarcarsi in una storia del genere? Adesso rilanciamo la domanda. Siamo di fronte alla truffa. Io mi chiedo ancora, dov'è la legge sulla corruzione presentata come disegno legge dal governo il primo marzo del 2010? Allora guardi, il sottosegretario Mantovano c'ha da rispondere lungamente. Intanto voglio sentire subito l'onorevole Ferranti e poi andare da Mantovano. Sì, diciamo, io credo che voglio fare una domanda, faccio una domanda perché ho sentito dire anche da ultimo che in pratica la politicizzazione dell'ECSM attuale tramite le correnti imporrebbe questa riforma. In realtà questa riforma inserisce al 50% la politica dentro. Si vuole spoliticizzare e invece aumenta il peso della politica. Aumenterebbe innanzitutto il peso della politica. Quindi è una contraddizione. In realtà si vuole controllare attraverso questa composizione politica che è al 50%, si vuole controllare la magistratura. Seconda cosa, una cosa importante che viene alla luce da questa lettura di questa riforma che anche per noi è un modo di mescolare le acque e comunque attrarre l'attenzione su problematiche ancora sempre conflittuali per non risolvere i problemi veri della giustizia. Perché sul problema vero della giustizia, il funzionamento e l'efficienza. Mi dispiace contraddire la Maria Greco che dice che il CSM dà le direttive per l'organizzazione. In realtà il responsabile dell'organizzazione, in base, l'ex ministro Mastella me lo potrà confermare, in base all'attuale Costituzione è il ministro. Quindi il funzionamento degli uffici giudiziari che non funzionano risponde direttamente il ministro che non ha assunto nessuna attività. Erano in fieri, erano state messe in atto una serie di procedimenti di organizzazione, ad esempio processo telematico nel governo di centro-sinistra che era soltanto sperimentato, doveva sperimentarsi a Milano e lì è rimasto in altre piccole sedi, è stato ancora in sperimentazione dopo tre anni. No, 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 tanto lei ha da rispondere. Grazie, no, grazie, così intanto cominciamo a sentire qualche risposta. Sì, ma voglio dire, ci sono tante questioni sulla corruzione, le priorità fatte dal Parlamento, in realtà quando si dice, non so che ho sentito, prima dice, è identica alla riforma 4. Sì, sì, guardi, lo scrive Italia Oggi e lo confermava. Così, guardi, ci sono delle frasi, allora la cosa è molto subdola, perché da un lato si riprendono alcune frasi, alcune frasi, per esempio quella che il ministro della giustizia riferisce annualmente alle camere, sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso del militare. Non entriamo in tutti i dettagli, però non devo... No, però questo è importantissimo. Nella proposta Boato non si intacca assolutamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non esistono i criteri di priorità dell'azione penale dettati dal Parlamento, anche perché, mi riporto a quello che si diceva prima sulla corruzione, mi verrà da chiedere, come si fa in tema di corruzione a ritenere, per esempio, che in un certo momento non rientra nelle priorità per seguire i reati di corruzione, di confusione, di abuso di ufficio, quando le convenzioni internazionali che dobbiamo ancora rendere immediatamente precettive in Italia, quelle convenzioni ci impongono di creare tutti gli strumenti per celebrare i processi e fare le indagini in materia di corruzione. Grazie, allora 8.45, pubblicità e poi c'ha dei ricchi appunti il sottosegretario a cui chiedo comunque rapidità nelle risposte perché deve rispondere a molti dei nostri ospiti tra poco. Ci stiamo occupando della riforma della giustizia, ma vi stiamo dando conto anche delle notizie che arrivano dal Giappone, colpito da un violentissimo terremoto, un rapidissimo aggiornamento, c'è una prima vittima ufficiale, ci sono otto dispersi, è stata inondata dallo tsunami la Disney vicino Tokyo e peraltro vicino Tokyo, queste sono le immagini, ha preso fuoco, c'è un ruogo terribile in una raffineria, siamo proprio vicino Tokyo, a Tokyo ci sono 4 milioni di persone senza energia elettrica, peraltro c'è adesso un allarme tsunami a Taiwan e in Indonesia, mentre 300 cittadini russi sono stati evacuati dalle isole Kurili, anche qui in seguito ad un allarme tsunami, insomma queste sono poche notizie, pochi aggiornamenti che riguardano però quello che sta succedendo in Giappone. Torniamo in studio, occupiamoci di giustizia, c'era il sottosegretario Mantovano che aveva preso molti appunti perché era stato sollecitato dagli interventi precedenti, le chiedo solo una gentilezza, se possiamo partire dal mi pare disegno di legge anticorruzione, qualcuno chiedeva, forse Gomez, ma non solo Gomez, che fine ha fatto? Il governo, in discussione alla prima commissione del Senato, il governo la sua proposta l'ha fatta, adesso tocca al Parlamento decidere, certamente è un provvedimento al quale si fa molta attenzione, allora io vorrei intanto sgombrare il campo da tutto ciò che non ha a che fare con la riforma della giustizia, per cui a me personalmente non interessa quanto è lungo il cerotto che ha Berlusconi sul viso, non interessa ai fini del nostro discorso perlomeno quante volte andrà in giudizio, poi dovremmo anche metterci d'accordo perché se Berlusconi decide di non presentarsi nell'udienza in cui è interessato, fugge dal processo, se ci va, ci va per fare campagna elettorale, non mi interessano neanche i processi alle intenzioni, mi interessano i processi veri, quelli che si fanno nelle aule di giustizia. Allora, l'onorevole Ferrante prima ha posto una questione, che benefici avrà il cittadino da questa riforma? È evidente che non saranno benefici che matureranno dalla sera alla mattina, però se io torno a casa e premo l'interruttore, si accende la luce, a condizione che però qualcuno abbia fatto un lavoro prima, abbia messo i fili, li abbia collegati con la centralina, è quello che stiamo facendo adesso, perché se immaginiamo che funzioni premendo l'interruttore e accendendo la luce e non c'è lavoro preventivo, evidentemente non succede nulla. Ha ragione l'onorevole Mastella quando dice si deve confidare per arrivare ad una buona riforma, buona e tempestiva sulla collaborazione di tutte le forze politiche. E di tutte le parti interessate non c'è soltanto l'ANM, ci sono anche i magistrati, proverei a distinguere, ci sono gli avvocati, ieri l'Unione delle Camere Penali ha fatto un appello al Parlamento dicendo evitate le polemiche, adesso c'è questo testo, discutete nel merito e si è rivolto soprattutto all'opposizione e da questo punto di vista io trovo singolare la posizione del Partito Democratico, perché si può anche dire che il presepe non mi piace, però non sta bene dire che il presepe non mi piace a seconda di chi lo fa, cioè il presepe quello è la Madonna, San Giuseppe, il bambino e i pastori. Ho l'impressione che la valutazione del PD cambi a seconda di chi mette i personaggi nel presepe. Perché dico questo? Testo dell'ultima bozza boato della bicamerale, articolo 117, distinzione tra giudici e magistrati del Pubblico Ministero. Vogliamo andare avanti? Sì, non sono le stesse parole letterali, però se guardiamo i concetti ci arriviamo. Articolo 120, Consiglio Superiore Magistratura, non sono due... Dice che non è la separazione delle carriere, dice l'Alevole Ferranti. Non è separazione delle carriere. Nel momento in cui una norma costituzionale ad un comma dice i giudici sono soggetti soltanto alla legge e al comma successivo dice i magistrati del Pubblico Ministero sono indipendenti eccetera eccetera, e o non è due cose diverse in un testo costituzionale. Articolo 120 della bozza d'Alema, non sono due diversi CSM, ma in un unico CSM ci sono due sezioni distinte, elette in modo distinto. Poi sta storia dei politici che entrano nella bozza, me la spiegate perché nella bozza d'Alema c'era comunque un aumento della presenza non dei politici ma di coloro che essendo docenti universitari con 15 anni di esperienza o avvocati con 15 anni di esperienza sono espressi dal Parlamento. Coste di giustizia disciplinare, articolo 122 e infine un'apertura anche al rapporto tra la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero, articolo 127. Dice questa è storia vecchia, siamo 98, allora arriviamo al 2010. Nel 2010 l'allora e attuale responsabile di giustizia del Partito Democratico, l'On. Andrea Orlando, scrive un'interessante riflessione sulle colonne del foglio, 11 aprile pagina 1, nella quale dice separazione delle carriere, sono ipotizzabili norme che rafforzino il criterio della distinzione dei ruoli, precisione, incompatibilità eccetera. Efficace dell'azione disciplinare, distinzione maggiore di chi esercita questo tipo di giustizia domestica dal CSM, quindi fuori dal CSM. E ancora, facciamo concludere. E ce l'ho davanti. Non è così? No, quello lì ha letto mi pare un'intervista? No, no, è a firma di Andrea Urbani. È un intervento diciamo sul foglio. Sì, ma c'è il documento dell'Assemblea del Partito Democratico. Tante vero che il giorno dopo, sul giornale di cui è vice direttore il dottor Gomez esce una scomunica firma di Bruno Tinti, il PD apre al dialogo sul foglio due punti e complicità, quindi risolvetevi le vostre questioni. È arrivato documentatissimo. Allora, adesso non ce l'ho Tsunani, però non vorrei che fosse sostituito uno avanti, vorrei concludere il discorso. Ha ragione Mantovano sulla bozza Boato. Cioè, le cose stanno esattamente... È arrivato come se a dar manforte, come diceva da lei. Terzo punto, può piacere o non piacere, era sbagliata allora, è sbagliata anche la cosa. Il foglio, onorevole Andrea Orlando, sarebbe matura una riflessione sulla rimodulazione dell'obbligatorietà attraverso l'individuazione di priorità che non limitino l'indipendenza dei primi. Beh, un auspicio, diciamo, esprime in questo senso. Allora, io mi ritrovo nella posizione dell'onorevole Orlando e questa proposta, varata ieri dal governo, va esattamente in questa direzione. Che cosa ne ricaveranno i cittadini? Allora, normalmente il dibattito sulla giustizia si avvita attorno alla questione importantissima dell'imparzialità. E su questa possiamo discutere anche sulla battuta di ieri di Berlusconi. Mano di Pulite aveva una sostanza grossa come una casa, però ci sono state delle diriezioni che certamente sono andate nella direzione opposta all'imparzialità. Ma c'è un nodo sul quale si riflette poco e che è stato evocato anche da Gomez, quello della efficienza. Nel momento in cui oggi ci sono tavoli di pubblici ministeri carichi di fascicoli con richieste di emissione di ordinanze di custodia cautelare per fatti gravissimi di mafia che restano lì mentre vengono mandate avanti altre cose che si risolveranno con una bolla di sapone. Nel momento in cui sui tavoli del GIP accade lo stesso, per cui da quando la polizia giudiziaria deposita una informativa contenente richiesta di arrestare mafiosi pericolosi, non faccio nomi, però nella mia attività quotidiana è piena di lamentele da parte degli addetti ai lavori di vicende di questo tipo e passano tre anni prima che quel mafioso vada in carcere perché c'erano gli elementi nei suoi confronti. Beh questa è una cosa che chiama in causa direttamente l'efficienza dell'attività giudiziaria che non dipende dall'intervento o meno del ministro, dipende dal fatto che il pubblico ministero, non tutti alcuni, che il GIP non tutti alcuni interpretano propri criteri di priorità in modo assolutamente arbitrario. Allora che il Parlamento dica premesso della legge uguale per tutti, premesso che l'azione penale è obbligatoria, però mafia e terrorismo e anche corruzione, concussione, ma poi c'è una discussione mica viene imposto questo. Hanno la priorità su altro? Secondo me è sacrosanto. Ultimo aspetto perché anche questo è stato prima trattato. Il CSM, qui non c'è lesione di nessuna prerogativa costituzionale, c'è un riportare il CSM alle funzioni volute dal Costituente nel 1948. Nel testo proposto dal Governo si parla della eliminazione per il CSM degli atti di indirizzo politico. il CSM nel corso degli anni, ma anche di recente, ci ha messo un anno per coprire alcuni posti giudiziali, non compete al Ministro, compete al CSM. Esempio, procuratore della Repubblica di Palermo, incide o no sulla funzionalità di una procura che il suo capo non ci sia per un anno? Perché non ha fatto questo? Perché ci devono essere gli accordi interni anche con quelle che le agenzie chiamano le correnti di sinistra della magistratura. Ecco, un effetto della riforma sarà che nella magistratura non ci sarà più destra, centro e sinistra, ma ci saranno magistrati che avranno le loro idee, che lo confronteranno, ma lo faranno in modo organizzato. Dicevo, il CSM, ho l'impressione che, non voglio lanciare giudizi sull'attuale, ma certamente il precedente, non coprisse alcuni posti importanti e quindi facesse meno, provocasse una lesione alla funzionalità della macchina giudiziaria, perché si occupava di altro. Siamo stati tutti inondati dalle cosiddette azioni a tutela. Cosa sono le azioni a tutela? Se io sono stato destinatario di un'azione a tutela, se un quisque de popolo, come chi sta parlando, dice per esempio che la sentenza della Cassazione sulla vicenda di Luana è in glaro, è espressione di una cultura di morte, al CSM si incazzano, perdonatemi l'espressione, e discutono per un'intera giornata un'azione a tutela. Per cui invece di nominare il procuratore di Palermo, dicono che Mantovano ha detto una cosa terribile. Tra l'altro ero in ottima compagnia, c'era anche un vescovo dei ministri, oggetto di questa azione a tutela. Allora, nel momento in cui si dice che sono fuori dall'attività del CSM atti di indirizzo politico, si dice che caro CSM stai lì per decidere chi fa il procuratore della Repubblica tempestivamente, stai lì per disciplinare l'ordine giudiziario come Costituzione prevede, stai lì per non fare chiacchiere e per non perdere intere giornate a scapio dei contribuenti in dibattiti che non c'entrano nulla con la tua funzione. Le posso chiedere solo, mi dia una risposta un po' lampo, diceva Gomez mi pare, però si potrebbero fare delle cose per la velocità e la certezza, per velocizzare la macchina giudizia per avere la certezza della pena in maniera insomma rapida e questi provvedimenti... No, io non trovo contraddizione tra la riforma costituzionale in materia di giustizia e leggi ordinarie che possono andare esattamente nella stessa direzione, però nel momento in cui un magistrato viene giudicato disciplinarmente non più dai colleghi che ha contribuito a eleggere sulla base di criteri correntizi sindacali, ma da una corte che dà di giustizia disciplinare, che così come prevedeva anche la bicamerale, come ha previsto una proposta di violante, viene messa fuori dal CSM e quindi dà maggiori garanzie di obiettività, anche l'efficienza della giustizia, anche i tempi della giustizia conoscono un'accelerazione, perché finché io ho la mia corrente che mi protegge, posso depositare un provvedimento dopo un sacco di tempo, purtroppo c'ho chi mi tutela. No, questo è documentato da centinaia di provvedimenti disciplinari che possiamo mettere su questo tavolo. Adesso mi risponde su tutto, voglio sentire un attimo però Rao e la Greco. Rao. Io vorrei proporre di portare Mantovano a promuovere questa riforma perché lo fa in termini molto seri, molto competenti. Cioè lo facciamo il testimone alle legge. Mi sembra più adatto di altri, ma al di là di questo noi ci confronteremo, Omnibus credo che farà, se tutto non crolla, almeno altre 79 puntate su questo argomento. A dir poco, diciamo. Se adesso noi cominciamo a scendere su questi particolari, secondo me non ne usciamo. Io vorrei invece ritornare alla proposta di Gomez che invece ci impegna tutti, politici e governo e opinionisti. Cioè abbiamo una serie di norme, e lo ricordava anche lei, Pancani, prima giustamente, che possono viaggiare, che devono viaggiare parallelamente. Se è vero che questo tavolo è stato sparecchiato, se sono vere le intenzioni del governo di queste norme ad personam, in Commissione Giustizia, la Camera e al Senato, al Senato mi risulta che l'ultima seduta sull'anticorruzione è stata fatta il 18 gennaio per 5 minuti e non è intervenuto nulla. Sono norme ferme. Il Ministro è colpa del Parlamento. Benissimo, allora chiederemo, prendiamo l'impegno adesso e anche il governo e la maggioranza di dare la priorità a questi provvedimenti per l'efficienza di cui abbiamo parlato tutti, a partire dal DDL anticorruzione che ha definito storico il Ministro Alfano. Allora, questa riforma epocale, facciamo il provvedimento storico del DDL anticorruzione, su cui siamo d'accordo, per far capire anche agli ascoltatori, parliamo di inasprimento delle pene per i funzionari infedeli, ineleggibilità per i politici corrotti, trasparenza assoluta negli appalti e quant'altro. Tenendo presente che la Corte dei Conti ha detto che c'è una tassa occulta che deriva dalla corruzione pari a 60 miliardi, altro che manovra economica, partiamo da questo e da altri provvedimenti di organizzazione, come il ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie, che consentono l'efficienza, la tempestività del processo senza arrivare ad altre norme. Sono sicuro che conosco il sottosegretario Mantovano, è stato un bravissimo magistrato, questo per dire della casta dei magistrati che tante volte si parla, ma insomma bisogna sempre distinguere le persone e dobbiamo assolutamente metterci in Parlamento, prendere un impegno e andare avanti su questo, altrimenti il resto, ha ragione chi critica, significa fare soltanto fumo per parlare di giustizia, ma non si parla della giustizia che interessa i cittadini. A Torino hanno fatto un esperimento di carattere organizzativo e hanno ridotto del 33%, come sanno bene i colleghi, i tempi per arrivare a sentenza. A Bolzano ancora? A Bolzano ancora, l'abbiamo udito in commissione, andiamo avanti. DDL anticorruzione, prendiamo l'impegno e andiamo avanti, vediamo in quanto tempo lo portiamo a casa, spero prima della riforma. Lo verificheremo giorno dopo giorno noi, peraltro. Anna Maria Grego. Ecco, io credo che in realtà appunto se ci sarà un dialogo costruttivo in Parlamento su questa riforma sarà proprio l'occasione poi per affrontare anche altri possibili interventi più celeri, magari con legge ordinaria sulla giustizia, quindi mi sembra del tutto positivo che comunque in Parlamento arrivi questa riforma e magari invece di fare le barricate da un lato e dall'altro, se se ne discute appunto costruttivamente è un'occasione buona. Ma volevo dire solo due cose, che a proposito della bozza boato che veniva rievocavata prima, malgrado quello che adesso vuol dire l'onorevole Ferrati, su quelle email appunto di cui parlavo prima c'era proprio un dibattito su questo argomento dicendo il problema è, diceva proprio un magistrato, che molte delle proposte della riforma vengano proprio dai spagnanti di sinistra e per noi quindi è difficile adesso attaccarle. E questo per dire anche che si dovevano attaccare in ogni caso, insomma ci si stava mettendo d'accordo su come attaccarle, certo c'era questo imbarazzo di dover attaccare Violante o boato o D'Alema e questo già le dice lunga. Poi sul problema del CSM e della nuova composizione di cui si parla nella riforma, il discorso che è stato fatto prima, il peso politico aumenterebbe, ma io adesso parlo proprio da osservatrice, da giornalista che per vent'anni è stato dentro al CSM per lavoro e devo dire che i laici del CSM di oggi, di ieri, di 15 anni fa, professori universitari e avvocati eletti dal Parlamento, dal centro-destra, dal centro-sinistra o da chi, io li ho visti lavorare, non erano dei politici, qualcuno forse lo era più di altro, però dire che questi sono dei politici non è vero, cioè si riequilibra la componente togata rispetto a quella laica in modo che non ci sia una prevalenza, ma erano molto più politicizzati e più politici i magistrati, i togati che facevano parte. Quindi questa immissione di nuovi laici, come vengono detti, anzi dovrebbe portare una maggiore professionalità anche nell'affrontare certi problemi della magistratura che non si rifaccia invece semplicemente alle correnti politiche e questo mi sembra un fatto del tutto positivo. Io innanzitutto non sono qui per difendere, vorrei mettere dei punti molto chiari, non sono qui per difendere la bozza Boato, voglio dire perché tra l'altro non è qui, sentivo prima che diceva anche questa non ci piace, oppure è la stessa parte, è stata presa in parla. Non è questo il punto, soltanto sono qui per dire che questa sovrapposizione che vuole essere lanciata con la bozza Boato non c'è, perché ci sono comunque… Cioè chi lo fa lo fa strumentalmente, le dite. Ecco, lo fa strumentalmente e in maniera sudola proprio per creare, anche per lanciare dei messaggi alla sinistra o comunque al popolo della sinistra. Ecco, ma non è questo il punto. Il punto invece è importante e mi dispiace che l'onorevole Mantovano, anche perché l'onorevole Mantovano sa per esperienza diretta che quando il Partito Democratico ha condiviso principi, ha visto anche un atteggiamento diciamo costruttivo, trasparente da parte del governo, mi riferisco al piano straordinario antimaciale, tutta la questione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, noi per primi ci siamo fatti parte di legente per costruire qualcosa e abbiamo votato a favore. Quindi non c'è nessuna pregiudiziale in quanto tale, ma è strumentale riportare un'intervista diciamo che fu fatta al foglio da Orlando, perché? Perché il programma del partito e quindi diciamo la posizione del nostro responsabile del partito e del gruppo è riportata proprio nel documento che è stato approvato dal Partito Democratico nell'Assemblea e sul problema delle priorità, guardi, delle priorità dell'azione penale, guardi un attimo solo perché... No, no, ma solo sulla pregiudiziale. Devo dire una cosa molto... Sulla pregiudiziale. No, mi devi far concludere, abbia abbastanza perché è una cosa molto importante. Massimo D'Alema, agenzia di ieri, ogni discussione seria sulla giustizia è difficile se non preceduto... No, scusate, no, scusate... Mantovallo, facciamo finire. Avrei già finito. Ma non è... Avrei già finito. Sulla pregiudiziale. Ogni discussione seria sulla giustizia è difficile se non preceduto dalle dimissioni di Berlusconi. Ma io voglio andare avanti perché io sono abituata a costruire delle cose. Io vengo dalla società civile... Sì, ma parliamo di quello che dite voi stessi. No, io vorrei poter rettificare un qualcosa che è stato dato artatamente sbagliato. Allora, problema delle priorità dell'azione penale, dell'esercizio quindi di un'azione penale, cerchiamo di spiegarlo ai cittadini e quindi dire, ah ma anche da parte vostra c'è un modo di... Adesso dite di no, però anche voi, il vostro responsabile... Pensi, pensate che proprio io sono firmataria insieme all'onorevole Tenaglia di una proposta che abbiamo presentato nel maggio del 2009 che riguarda proprio i criteri di esercizio della priorità dell'azione penale, cioè come si, diciamo, si devono rendere trasparenti ed effettivi le azioni della magistratura inquirente, dei pubblici ministeri. Mai però, e quindi quella è la posizione che è stata tra l'altro portata nelle priorità del Partito Democratico, mai calate dall'alto dal Parlamento. È quello che noi contestiamo. Noi contestiamo che il Parlamento... Quindi noi contestiamo che il Parlamento, quindi la politica, svuoti di contenuto l'obbligatorietà dell'azione penale. Noi invece vogliamo dire, anche sulle priorità, su questa falsa informazione che viene data, sulle priorità anche del governo. Allora, per se non è una priorità il processo breve che porterà al macero centinaia e migliaia di processi, perché è stato calendarizzato in priorità della maggioranza ed è calendarizzato il 28 in aula? Come mai non viene ritirato? Questo è il blef. Il blef è che, da un lato, si sventola un'irreforma costituzionale che ha, diciamo, una mira ben organizzata riguardo ai pubblici ministeri e il controllo dell'azione penale. Dall'altro, invece, non si fanno, non si portano in Parlamento, non si aiuta. Diciamo, noi abbiamo messo una serie di, come diceva anche il collega Rao, una serie di proposte sul tappeto. Cominciamo dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Cominciamo a... Però mi scusi se mi intero, perché voglio sapere a lei una cosa. Se però voi dite no pregiudizialmente su tutto, no pregiudizialmente, adesso il testo l'avete visto, quindi diciamo l'orologio era ieri, adesso l'avete visto. Però, se avete questo atteggiamento, è difficile poi riuscire a trovare un dialogo. Bersani dice abbiamo quattro proposte e discutiamo con la maggioranza. Avete già, come dire, eretto un muro, mi pare, rispetto a questa riforma. Perché questa riforma costituzionale mina in radice i diritti fondamentali. Però non tutti nel partito hanno questa posizione. Io leggevo i resoconti di oggi. Cioè, ci sono posizioni anche sfumature diverse nel suo partito. Quali sono? Io non mi risultano. Follini. Ci sono, per esempio, Follini è uno di questi. Questa riforma costituzionale, per come è stata impostata, è una riforma in odio alla magistratura. E dice, è punitiva dei magistrati. Sì, e soprattutto nel contesto, ma voglio dire, il Presidente Berlusconi è il rappresentante del governo. È quello per cui, diciamo, che ieri alla conferenza stampa ne ha detto quali sono le caratterizzazioni di questa riforma. Ma è quella che, se fosse stata in vigore, avrebbe cancellato certe inchieste. Questo è il succo. Perché poi Berlusconi parla diretto. Si dice così, si è smascherato il vero motivo della riforma. Il resto sono degli ammennicoli. Tanto è vero che non si parla, per esempio, non voglio ritornare sulla boato perché non mi interessa la boato, però voglio dire, lì si parlava di una riforma di sistema delle magistrature, la magistratura amministrativa, la magistratura contabile. Qui, guarda caso, l'obiettivo è l'ordinario e il pubblico ministero. E il riequilibrio tra i poteri e il riequilibrio nel giudice e nel processo non si realizza attraverso questa riforma. Noi siamo però un giudice terzo, ma si realizza attraverso dei ritocchi del processo penale. Perché non si riprendono gli atti dello studio della Commissione Riccio, che è stata fatta, che ha prodotto? Perché non si riprendono quegli atti? Perché non si fa la riforma del processo civile vera? Perché non si fa... Ma è chiarissimo il suo pensiero. Adesso volevo sentire Mastelaccio, voleva dare una... No, volevo dire solo una cosa perché io ieri alla conferenza stampa di Berlusconi c'era. Naturalmente tutto voglio fare tranne fare un'interpretazione autentica. Eh, se l'avete vista allora riferite bene perché mi dispiace, non ha proprio detto questo. Non ha detto che con questa riforma non sarebbero state fatte certe inchieste di mani pulite. Ah, questo ha detto. No, scusi, non ha detto questo. Ha detto una frase molto più complessa. Ha detto che senza questa riforma non ci sarebbero stati interventi politici dei magistrati per spazzare via partiti politici, interventi politici per far cadere il governo Prodi. Cioè cos'è la supplenza della magistratura rispetto alla classe politica? Ha detto che è stato il caso di Mastella o avvisi di garanzia per mettere in bilico il governo Berlusconi. Cioè interventi della magistratura finalizzati a obiettivi politici e non di indagini che poi hanno avuto un seguito. Mi pare molto diverso, mi sembrava giusto precisare. No, cioè la mia opinione da quello che mi pare di includere il mio pensiero anche qua è che la serenità con la quale realizzare alcuni obiettivi di fondo che riporta secondo me quello che ho sempre sostenuto dalla centralità del cittadino rispetto al pianeta giustizia francamente la discussione non mi pare che vada avanti. La dove sono pregiudiziale da parte e dall'altra diventa abbastanza complicata e molto difficile. spero e in questo l'azione forse diciamo del terzo polo puoi incoraggiare a dire bene, sceveriamo ad ogni aspetto in natura pregiudiziale vediamo dove ancorarci a qualche elemento come dire che sia di novità rispetto al modo con il quale attualmente si amministra giustizia in alcuni casi, devo dire, non sempre in maniera efficiente, in maniera veloce, in maniera rapida e insomma con qualche pregiudizio di troppo. Anche perché vorrei dire questo, cioè io ho detto prima che è giusto che l'associazione magistrati partecipi diciamo a questa elaborazione così come gli avvocati perché mi pare che sia una cosa che non si può fare a dispetto a dispetto da associazione magistrati dopo di che si può convenire assumendone alcuni rievi depositandone alcuni sul piano parlamentare altri dicendo mi dispiace molto ma abbiamo questa idea del primato della politica come tale però anche, diciamo, deve rendersi conto l'oro o chi, non l'oro per la vita, non l'oro però insomma Berlusconi non va bene se fa questa riforma io il governo di Cionista non andavo bene, sono stato ammazzato perché dicano poi loro insomma quello che vogliono perché diventa un po' complicato perché qualcosa va fatto proprio valutando i miei aspetti va fatto cioè allora quello non va bene invece si scelga nel merito cioè come vedete io sono scevro e sereno cioè la mia è una torsione di grande sanità si scelga il merito e vediamo com'è l'unica cosa a Gomez con il quale è una simpatia anche se abbiamo asimmetria sul piano diverso devo dire che quando lui dice la classe dirigente sembra la stessa anch'io leggo Gomez delle cose con intelligenza ma da tantissimi anni cioè siamo sempre gli stessi tutti non è che insomma questa è la verità dice classe politica, giornalistica è una redazione formata tutta da trentenni come? abbiamo una redazione formata tutta da trentenni no ma Gomez io la leggo e leggo le sue cose Mastella diciamo anche che questo insieme ogni mondo è presa ma perché devo dire poi regolo quelli che sono bravi come nel suo caso diciamo anche che visto che si parla purtroppo il Giappone sta vivendo delle ore molto drammatiche che l'Italia e il Giappone hanno la popolazione più longeva del mondo quindi questo vorrà pur dire qualcosa però vede che cambiano un po' ministri con molta frequenza di lato sì 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 per altri motivi anche all'ex ministro Mastella con una cosa brevissima secondo me è anche un appello al PD non diamo l'albi magistrati e partito democratico a Berlusconi di dire che siamo contrari a tutto perché è quello che serve al governo per avere l'alibi per non fare niente noi vogliamo che sulla giustizia venga fatto tutto cerchiamo tutto il possibile dalle carceri all'informatizzazione vera che sappiamo che ancora viaggiano i fascicoli di carta sulla gomma dei camion per portarli da un tribunale all'altro facciamo qualcosa non diamogli l'alibi se è possibile sui provvedimenti concreti bisogna essere sereni posso dire una cosa di Varchia Gomez che questo non fu alieno rispetto alla mia vicenda sull'indulto ad esempio lei sa il 17% soltanto di recidivi allora la sinistra tutti contro di me per questa vicenda l'indulto il 17% mentre normalmente il dato ordinario è quasi il 30% il 17% il che ha funzionato dopo di che ho letto da che parte questo è al merito dei prodotti io sono stato fottuto per la cosa la vicenda con il ministro e poi il merito dei prodotti è sicuramente singolare questo modo di concepire un po' le vicende allora pubblicità e poi andiamo da Gomez allora le 9.25 poco più di due ore fa un terribile evidentissimo terremoto è investito il Giappone circa 9 gradi sulla scala Richter e allora la situazione al momento è di almeno quattro vittime e decine di dispersi ma ovviamente un bilancio assolutamente provvisorio il premier giapponese Naoto Kan ha fatto una dichiarazione in televisione rivolgendosi ovviamente a tutta la popolazione ha detto bisogna mantenere la calma indossava lo vedete la tuta celeste usata per le situazioni di emergenza peraltro il Giappone ha chiesto cioè si è detto disponibile agli aiuti internazionali e questo la dice lunga sulla situazione le centrali nucleari secondo le prime verifiche non avrebbero subito danni c'è un allarme tsunami in tutto il Pacifico in Australia e in Sud America oltre 4 milioni di persone sono senza energia elettrica a Tokyo e nei dintorni di Tokyo lo vedete da queste immagini brucia una grandissima raffineria allagata inondata completamente sepolta dalle acque la Disneyland che sorge vicino Tokyo sono solo alcune delle notizie che vi possiamo dare in aggiornamento costante e continuo lo stiamo facendo dall'inizio del nostro dibattito ci stiamo occupando ovviamente della riforma della giustizia di cose domestiche per così dire mentre continuiamo a vedere queste immagini spaventose che arrivano dal Giappone allora volevamo ricoinvolgere possiamo tornare in studio Peter Gomez Gomez si allora ha sentito dicevo prima cosa si potrebbe fare e si dovrebbe fare c'è una cosa che nessuno fa e che per me che ho frequentato tanti anni le aule di giustizia è evidente nel 1989 come sapete viene introdotto il nuovo codice di procedura penale da quel giorno la prova sul modello americano diciamo si forma in aula questo vuol dire che il processo nella pratica diventa un processo molto lungo e molto particolareggiato ma è un processo anche molto garantista e questo è un bene per i cittadini perché riduce il rischio di essere condannati in maniera ingiusta per far sì che il sistema funzioni è però necessario che di processi ne vengano celebrati molto pochi negli Stati Uniti l'85% delle cause delle inchieste viene chiusa in maniera con sentenze di patteggiamento in Italia abbiamo vari riti alternativi cosa succede? in Italia invece si celebrano tanti processi perché principalmente vengono celebrati tanti processi? perché gli imputati hanno il vantaggio di andare in aula tirarla in lunga sperando nella prescrizione abbiamo avuto una legge la ex cerielli che di fatto ha dimezzato nella maggior parte dei casi i termini di prescrizione attenzione la prescrizione non è una cosa negativa ha un senso cosa si dice? si dice lo Stato dopo tanti anni non ha più interesse a perseguire un reato che nemmeno i cittadini ricordano più mi rubano il motorino dopo 15 anni è ovvio che non mi importa più del mio motorino non c'è nessun interesse che lo Stato spenda tanti soldi per perseguire quel reato domanda in quasi tutti gli altri paesi però si stabilisce che i termini di prescrizione smettono di decorrere nel momento in cui è stato individuato l'imputato cioè nel momento in cui o c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio o c'è stato un rinvio a giudizio perché qual è la razio si dice se lo Stato ha speso tanti soldi tante energie la polizia i magistrati e quant'altro per individuare un presunto non colpevole una persona da processare che senso ha che tutti questi soldi siano stati spesi queste energie e fare prescrivere un processo magari quando in appello o è arrivato in Cassazione è antieconomico ed è sbagliato ed ha un effetto deleterio sul resto perché vuol dire che anche chi sa di essere raggiunto da prove forti decide molto spesso di non patteggiare o di non accedere al rito abbreviato e quindi non si diminuisce quel numero di processi la situazione poi è peggiorata da un'altra cosa la politica generalmente in questi anni ha avuto una tendenza a scaricare sulla magistratura tutta una serie di comportamenti che provocano allarme sociale io mi ricordo che a un certo punto si diceva ai writer ci facciamo quelli che scrivono sui muri ci facciamo il processo si fanno i processi a quelli che o l'inchiesta contro quelli che falsificano i biglietti della metropolitana si fanno i processi o l'inchiesta per truffa ai danni dello Stato contro quelli che bloccano il contatore dell'Enel tutti i comportamenti che vanno certamente perseguiti ma che so possono essere perquisiti più efficacemente in via amministrativa un esempio se io guido a 200 all'ora in autostrada e mi beccano la polizia stradale mi ritira la patente non mi fanno un processo se io invece ho superato leggermente i tassi i tassi alcolemici nel sangue parte un processo che molto spesso sfocia in una richiesta di un decreto penale di condanna io faccio opposizione e tutto si prescrive perché in via amministrativa invece non mi sequestrano la macchina direttamente va bene no è chiaro solo che io ho tre minuti o un minuto e mezzo per Mantovano e un minuto e mezzo per l'onorevole Ferranti per essere come dire Bipartisan prego ho annotato le proposte di Gomez saranno sicuramente oggetto di prossimi interventi normativi ma sono quasi tutte già nell'ordinamento vorrei partire da un dato certo nel 2008 il centro-sinistra ha perso le elezioni e il centro-destra ha vinto sulla base di un programma quello che sta avvenendo oggi è l'attuazione di questo programma tanti impegni assunti sono stati già realizzati su questo fronte prima l'onorevole Ferranti ricordava le norme in materia di contrasto alla mafia tra cui ci sono anche alcune questioni toccate da Gomez per esempio il divieto di patteggiamento in grado di appello che comportava un dispendio di energie fino a quel momento per dissolvere poi la sanzione penale c'è stato o no? è come questo tanti altri allora poiché ci mancano due anni è vero ci sono le difficoltà indicate prima dell'onorevole Mastella ma ce la vogliamo fare l'opposizione in passato a fronte di alcune questioni che hanno interessato il mondo della giustizia in particolare nel contrasto alla mafia ha dato un contributo importante noi questo contributo lo auspichiamo e lo attendiamo però primo senza pregiudiziari quando io chiedo scusa dell'interruzione prima ma leggo D'Alema prima Berlusconi va a casa poi discutiamo di giustizia evidentemente secondo abbandoniamo questo vezzo secondo cui i problemi sono sempre altri allora affrontiamo questioni di dettaglio perché non vi occupate del quadro affrontiamo con la riforma costituzionale il quadro che avrà effetti concreti perché non trattate questioni di dettaglio sentiamo la Ferranti io credo che non ci sia una questione di pregiudiziale in questi termini non stati detti ma è ovviamente D'Alema l'ha detto ma è significativo perché è collegato a quel discorso di una riforma una pretesa riforma costituzionale che è una controriforma e che mira ad essere diciamo punitiva è questo che il contesto ambientale politico porta mentre noi volevo riprendere il discorso di Gomez noi su quella linea abbiamo fatto delle proposte concrete abbiamo proposto anche la questione e sono nella linea del programma del Partito Democratico sono le proposte di cui parlava anche il segretario Bersani che riguardano anche tutto il profilo della depenalizzazione delle misure alternative alla carcerazione e la riforma della Cerielli io so la prima la prima legge proposta di legge che è stata calendarizzata da parte del Partito Democratico in Commissione Giustizia riguardava proprio la riforma della prescrizione di questa tagliola dell'ex Cerielli che fa sì che viene svuotato e in qualche modo non cammina il processo penale per non parlare del processo civile in cui stiamo ancora attendendo per rispondere alla collega Mantovano l'attuazione di quella delega di riforma e semplificazione dei venti più riti del processo civile però la legge c'è stata scusate la legge c'è stata mi dispiace anche che non ho potuto fare una battuta finale far fare agli altri ospiti Comez ha ricevuto maggior consensi sia da adesso che da stessa Comez è ministra della giustizia e l'uomo visto che trova consenso qua unanime allora Comez almeno un caffè pagato per tutti grazie e allora alle 13.30 nel nostro telegiornale tutti gli aggiornamenti sul terremoto in Giappone grazie ancora ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori con Omnibus appuntamento a domani Eccoci qua di nuovo questa mattina abbiamo visto che le nuvole che cambieranno il tempo portando e portate da aria più calda e umida molto più calda e umida al momento sembrano ancora lontane però in realtà in realtà c'è una come dire una nuvolosità non troppo compatta che in qualche modo interessa agli strati bassi questa immagine questa finta foto da satellite è una situazione prevista dal computer è del del sito dell'Aeronautica ci fa vedere per questa sera questa nuvolosità vedete sembra ancora trasparente quindi non particolarmente fitta che interessa tutti i versanti occidentali mentre la zona più intensa e questo ieri si era visto che era lì che andava un po' da come dire andava un po' a parare si trova a ovest dell'Italia però prima di vedere la previsione siccome mi dicono che abbiamo delle immagini dal Giappone le vediamo insieme io non le ho viste non so di cosa si tratta ma insomma ci teniamo aggiornati su una situazione veramente drammatica vediamo che che immagini ci arrivano ecco sapete che il terremoto è stato molto violento si parlava di 8-9 sulla scala Richter che è una cosa veramente drammatica e che c'è stato pare questa è notizia veramente degli ultimi minuti anche uno tsunami quindi sapete quelle onde non anomale perché si chiamano onde anomale delle onde molto ripide molto secche piuttosto alte che vengono provocate proprio dallo spostamento del fondo del fondo marino conseguente al terremoto ne abbiamo immagini sappiamo del 2004 insomma sono cose drammatiche adesso le notizie le informazioni purtroppo l'elenco dei danni e delle vittime arriverà pian piano nel corso della giornata a questo punto vediamo il nostro tempo che a questo punto come sempre ci sembra poca cosa vediamo la previsione per la giornata di oggi questo aumento della nuvolosità sui settori un po' più occidentali in serata forse anche qualche breve pioggia ma non è ancora una situazione di maltempo per intenderci diventa grigio i venti sono non particolarmente intensi ma cominciano a rinforzare nella zona più vicina al centro del maltempo che vi ripeto è sul Mediterraneo occidentale quindi sul mare canale di Sardegna i venti da sud est diventano anche localmente forti e il sud est tipicamente va a battere come vento sui rilievi della Liguria di Ponente infatti se andiamo a vedere la previsione per domani in quelle zone c'è la possibilità di qualche temporale stamattina vi ricordavo che con il sud ovest invece è più nel mirino la riviera di Levante quindi la parte della Liguria di Levante bene domani comunque il tempo peggiora un po' su tutto il nord sicuramente sui versanti occidentali resta ancora un po' al di fuori solo nuvole per quello che riguarda il sud ma questo peggioramento viene avanti in qualche modo infatti nella giornata di domenica troviamo parliamo della situazione iniziale tutto il nord e tutto il centro e in maniera più attenuata anche il sud ma nuvole qualche pioggia arrivano anche al sud tenete conto che questa situazione siccome in qualche modo si sposta verso est comincerà ad attenuarsi se non altro nei fenomeni sulle parti più occidentali che sono nord ovest Corsica e Sardegna le nevicate sulle Alpi ci saranno ma dato che le temperature sono in aumento tutto scirocco sarà nel corso del fine settimana non si prevede che possa nevicare al di sotto dei 1600 metri forse in qualche caso anche un pochino più in alto bene noi ci vediamo domani alla stessa ora adesso Enrico Vaime e il suo dubbio buongiorno la pubblicità di un'azione scorretta o sbagliata cioè portare a conoscenza della gente un comportamento riprovevole serve dicono in molti a frenare le azioni violenti e riprovevole che potrebbero verificarsi ancora in teoria pubblicizzare e sottolineare la negatività di un gesto può essere utile può essere utile per frenare per frenare la corruzione per frenare l'esagerazione far vedere un'iniziativa violenta e inaccettabile fornisce allo spettatore la possibilità di giudicare il comportamento altrui e quindi evitare di emularlo quando la televisione quindi ci mostra delle intemperanze o delle scorrettezze ci fa diciamo un bel favore e cioè ci aiuta sottolineando l'errore ci aiuta a non compierlo anche noi cosa succede? di solito fanno vedere delle scorrettezze di campioni di calcio perché da noi se non parli di calcio lo sport praticamente non esiste quindi rimaniamo pure nel settore si guardano queste scene al ralantio alla moviola sottolineando appunto la scorrettezza di un gesto e quindi si sottolinea anche la condanna dello stesso e la possibilità di combinare delle pene e insomma di intervenire quindi è importante che si pubblicizzi un fatto negativo perché questo fatto non sussista più non venga a verificarsi ancora sono belle parole sono anche balle perché non è così lo sappiamo benissimo sì dura lo spazio di un mattino l'esecreazione o comunque la sottolineatura è negativa ma poi ognuno fa quello che gli suggerisce l'istinto in quel momento ora un'azione scorretta compiuta da un campione non equivale a un'azione scorretta o una reazione di uno di noi noi siamo quelli degli spalti noi siamo nelle gradinate noi siamo nei distinti o in curva loro no loro sono al centro dell'attenzione loro sono in teoria uguali ma in pratica assai diversi da noi perché perché innanzitutto possono e devono contare sulla nostra connivenza e la nostra solidarietà noi siamo tifosi noi siamo quelli che parteggiamo comunque per loro per ragioni strane difficilmente esplicabili ma insomma è così quindi loro hanno dalla loro parte il fatto che noi gli astanti il pubblico la cittadinanza gli è favorevole sostanzialmente e anche il fatto che essendo molto ricchi perché stiamo parlando di campioni di calcio e molto pagati al massimo potranno pagare una multa che di solito è molto relativa incide proprio minimamente sul loro bilancio ora ci sono stati anche di recente dei fatti diciamo di intemperanze e di scorrettezze anche vistose ci sono quelli classici quelli di Cantona e poi ci sono quelli più recenti di Gattuso di De Rossi cioè ci sono degli atteggiamenti rissosi e aggressivi che vanno a minare la ragione stessa dello sport che è competizione leale e affratellamento attraverso lo sforzo fisico belle parole balle e questo è questo succede quando un personaggio famoso si comporta male tutti quanti ricordiamo l'episodio di Zinedine Zidane che dette una testata sul non so dove bene credo qui al plesso solare di Materazzi durante un'Italia-Francia che ricordiamo con sgradevolezza proprio per questo episodio perché per il resto andò bene il discorso che ne scaturì fu molto strano e cioè prima di tutto può una persona un atleta di primissimo piano come Zidane comportarsi in questa maniera vistosa e irrazionale di fronte a tutti fregandosene in questa maniera cioè lui ha aggredito fisicamente un suo collega a prescindere dall'azione non stavano giocando non c'era il pallone era una cosa che non riguardava la funzione che stavano svolgendo quindi gravissima cosa ti porti nello sport quello che invece lo sport ti aiuta a cantonare e a decantare e quindi gravissimo e poi c'è un altro piccolo dubbio che dovete concedere all'essere umano sì gli ha dato una capocciata Zidane a Materazzi Materazzi è un sacramento di un uomo alto due metri un difensore massiccio con una capocciata l'ha steso era quasi morto ha stentato a riprendersi può succedere per carità non voglio insinuare simulazioni però eccessiva come si può dire spettacolarizzazione sì c'è eppure come è finita niente è finita e non niente multa piccola sospensione piccola anche fossero 5 non mi ricordo quant'era 25 giornate robetta multa roba da ridere questi sono miliardari che gliene importa di sganciare quattro soldi allora che cosa ci insegna lo sport poco poco ci dà la possibilità di esercitare la nostra retorica dicendo che la lealtà e la correttezza che si è tutti fratelli il terzo tempo a fine partita comincia un'altra partita che è quella diciamo più evidentemente spirituale bene scusate io sono qui per invitarvi a dubitare spesso di queste parole che rischiano di travalicare il confine della retorica lo sport dovrebbe insegnarci delle cose ma in effetti poi questo non succede facciamo un esempio cioè voi siete l'equivalente del giocatore che ha subito un'offesa naturalmente non in un campo sportivo ma nel campo professionale voi esercitate una professione e qualcuno qualcun altro offende la vostra professionalità vi fa una scorrettezza e voi reagite bene nella vita questa reazione non viene fischiata e punita con l'allontanamento momentaneo o con una piccola multa vi cacciano se voi protestate per un'ingiustizia subita in campo lavorativo nella maggioranza dei casi vi cacciano allora che cosa ci insegna lo sport ci insegna che contano molte cose ci sono molti valori spirituali e morali ma ci sono anche degli altri valori che non tutti possediamo noi che viviamo lontano dagli stadi cioè se volete reagire a quella che vi può sembrare un'ingiustizia innanzitutto non esagerate perché nessuno vi autorizza primo secondo controllate di avere dei fans perché i campioni sportivi se la cavano perché ci sono migliaia e migliaia di persone che li adorano che urlano il loro nome che li seguono controllate se avete fans e controllate se avete soldi a sufficienza in tasca perché ricordatevi che per noi non c'è la moviola a domani